Buone notizie per chi intende portare a termine piccoli e grandi interventi di ristrutturazione immobiliare nella propria abitazione. Infatti ci sarà l'opportunità di accedere a bonus fiscali come il super bonus 110% fino al termine del 2023. Lancia Abruzzo insieme a tutto Lancia Nazionale sta proprio battagliando per questa cosa qui perché battaglia vinta sì ma fino a un certo punto il 2023 dietro l'angolo e sicuramente non possiamo rigenerare e migliorare le abitazioni degli italiani in così poco tempo. Se noi pensiamo che in Italia ci sono ben 32 milioni di appartamenti privati noi possiamo sicuramente immaginare quanto tempo ci vuole, 30-40 anni ed è per questo che lavoriamo fortemente per far sì che questa legge diventi strutturale. Questi incentivi fiscali, prosegue Dintino, sono fonte di guadagno per lo Stato. Secondo un recente dossier redatto dal Cresme di Bellicini nei 23 anni di bonus lo Stato italiano ha guadagnato circa 3 miliardi l'anno mentre nell'ultimo anno con il forte impatto del 110 il ritorno per lo Stato è di circa 4 miliardi. Quindi capiamo che sono numeri importanti perché? Perché ogni euro investito in edilizia specialmente quelli di strutturazione si moltiplica in economia per 3,7. Significa quasi quattro volte pagare e ritornare con le tasse, con il modello F24, con l'IVA eccetera, ritornare i soldi al nostro Stato. Inoltre c'è la grande importanza di far tornare gli operai nei cantieri e quindi mano d'opera attiva e non redditi di cittadinanza. Notizia di alcuni giorni fa è che il lance nazionale ha votato all'unanimità e si batterà ai tavoli ministeriali perché questi lavori siano affidati a imprese qualificate soprattutto per la sicurezza dei cittadini. Noi oggi quando parliamo e quando leggiamo sui giornali che ci sono delle truffe, quelle sono fatte da imprese improvvisate che sono nate soltanto per cavalcare quest'onda economica e i lavori non vengono fatti per niente, sono cantieri fantasma.